Ciao a tutti, mi chiamo Cristian, sono venuto qui ad Istanbul il 3 di luglio, ho effettuato un intervento di capelli con lo staff del dottor Balwi, sin dal primo giorno, sin dal mio arrivo qui a Istanbul sono stato accolto in modo egregio sia dagli accompagnatori e sia dai collaboratori del dottor Balwi che sono stati molto gentili e disponibili. Il primo giorno mi hanno fatto il prelievo del sangue per accertarsi se avessi malattie infettive o altre malattie simili tipo l'HIV, tutto è andato bene, il secondo giorno sono venuto in clinica e ho effettuato la visita con il dottor Balwi che è stata una visita molto accurata, lui mi ha spiegato tutto il procedimento, mi ha tracciato la linea del frontale per vedere se mi piacesse più o meno, dopodiché ho eseguito l'intervento che è stato fatto dai suoi collaboratori, l'intervento è durato 8 ore, mi hanno estratto circa 4200 bulbi che poi mi hanno trapiantato su tutta la parte frontale della mia testa. L'intervento è stato buono nel senso che un po' di dolore si accusa all'inizio solo quando viene fatta anestesia, dopodiché nel proseguo dell'intervento non si sente alcun dolore, durante l'intervento, durante la prima fase c'è uno stop e ti fanno riposare, ti fanno mangiare qualcosa, dopodiché rinizia la seconda parte dell'intervento che è quella di aprire i canali e a sua volta innestare i bulbi trapiantati dalla parte donatrice. Il tutto si è svolto in maniera molto tranquilla, gli assistenti del dottor Bawi man mano che procedevano mi spiegavano passo passo ciò che stavano facendo, tranquillizzandomi su tutto il percorso dell'intervento e tutto è andato a buon fine. Finito l'intervento mi hanno trattenuto qui in clinica per circa un'ora, un'ora e mezza, mi hanno controllato tutto il posto operatorio e dopodiché con gli accompagnatori mi hanno riportato in un albergo, un albergo fantastico a 5 stelle. Ringrazio tutti gli accompagnatori, in particolar modo Typhoon che è stato veramente gentile nei miei confronti, ma tutto lo staff e anche il dottor Bawi sono stati veramente fantastici. Questa mattina sono venuto per fare un altro controllo e per fare il primo lavaggio, prima del lavaggio il dottor Bawi è venuto, mi ha ricontrollato il posto operatorio, mi ha detto che tutto va bene, ho fettato il lavaggio e adesso torno a casa aspettando i risultati dell'intervento. Quindi vi ringrazio e vi auguro buone cose a tutti. Arrivederci.